E' un'ora che lo dentino lo hanno recuperato per trauma calico? E' un'ora che lo dentino lo hanno recuperato per trauma calico? E' un'ora che lo ha fatto che la mia professione si sia messa in pezzo alle temi grande? Il mio ragazzo di Amarillo ha davvero partito la pari? O che ha portato dei vini in la casa? E' un figlio veniva a sconderla? Ecco, per te le domande... Devo rispondere tutte insieme a una... Ma il mio figlio è spazio... Ma il mio figlio è spazio... Ma non è una cosa... Allora ti rispondo che quest'anno l'ho conosciuto nel mio figlio e non era un tavolo ragazzo delizioso Sono amico Poi ti rispondo che al lì per le volte non si mangia veramente Nessun vignenne, nessun vignenne, nessun vignenne, nessun vignenne, nessun vignenne, nessun vignenne, nessuna parte Che va a diventare il figlio e l'ho dato in stalle, se esistere, gli hanno portato fortuna Quale l'altra domanda? Ah, il delfino... No, non sono stata l'atterrata con delfino, ma il suo delastica Scusate... Ecco, per finire abbiamo le immagini esclusive del viaggio in treno di Valeria Marini Ehi, versò con due Ah, vediamo, mette la giocatura Eh, non lo può Siamo sempre collegati di domanda Alla fuori Alla fuori Cosa non vogliono avere di dettagli? Mi non è a spiungere Lui Oh, grazie Grazie.